. Letizia Ortiz, la lite con la suocera Sofia diventa un caso. Soprattutto per Re Felipe, ecco i retroscena. Letizia Ortiz e la suocera Sofia vengono riprese in un momento di tensione e stizza reciproca. E il video non solo fa il giro del web, ma in Spagna diventa un caso nazionale. Il più preoccupato? Naturalmente Re Felipe, tra i due fuochi di molle e mamma. Alta tensione, la famiglia meraviglia ripresa dai fotografi durante le festività pasquali a Palma di Mallorca e non è così una meraviglia. Che cos'è successo? Al termine della messa, nonna Sofia esce sorridente dalla cattedrale abbracciando le sue adorabili nepotine, Leonor e Sofia. I fotografi sono pronti a immortalare il tenero momento quando Letizia improvvisamente si para davanti a figlia e suocera tentando di evitare abbracci e pose. Leo non reagisce male, allontanando da sé le mani di mamma e nonna, Sofia dice qualcosa alla nuora. Re Felipe, imbarazzato quanto Juan Carlos, cerca di intervenire. Un momento di alta tensione e ha mostrato la sua vera natura, e mentre il gesto in Spagna diventa un caso nazionale, su tutti. Il quotidiano è il mondo sottolinea come larmonia mostrata dai reali di Spagna a Pasqua fosse solo una facciata, non sorprende che da Palazzo Reale non esca alcun commento. A rompere le righe ci pensa Marie Chantal di Grecia, sposata con il cugino di re Felipe, il principe Pavlos, nessuna nonna merita un trattamento simile, scrive su Twitter. E aggiunge, a proposito di Letizia, lei ha messo in mostra la sua vera natura. . E come ciliegina posta uno scatto di famiglia dove si vedono i suoi genitori sorridenti con tanti nipoti intorno, nonni felici. La famiglia è la sola cosa che conta. . . . . . .